terza orsa io i partecipanti scusate questa deve essere ora allora sono sarbana siri ora di gallura colombati vi stavete passare ora orpe gesù e carbonio mohambo bellocchio preziosa per nepoli francesco aria qui non aprima salvo vicino e pestifilo di rincorsa giannetti questa sarbana una cavalla interessante era fermo un attimo se non diventa troppo lungo aspettiamo tiro al canale ecco sarbana siri ora di gallura colombati poi sentite discorsi dopo li sentirete tutti queste orpe carboni mohambo bellocchio bello è che si sape nello che caria prima prima vicino e pestifero di rincorsa con giannetti vediamo bene ma interessare amore stai vedendo troppo basso eccoli 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 parte velocissima sarbana non l'ha andata buona ma è sta sarbana sta sarbana cavalla molto interessante sta sarbana molto ecco la sarbana velocissima e anche siri quest'anno indiavolato è che prima ha fatto una bella cosa con risulta di fuori frusta a destra ma picchiava sulla spalla sinistra per tenerla giù perché ho fatto vedere al filmato poi sono caduto perché ero all'ultimo momento perché ho cercato di rimediare sto discorso di internet ma è meglio non vi dirò quanto ci ho messo da siena a venire perché se no mi arrestano fino alla prima vicino di rincorsa Pestifero e Giannetti eccoli è partito in testa siri caria è caduto ma bene vino a prima è un po' grande peccato di dentro si mette dentro cosa bene oltre tutto a posto qui passato ora avanti prestifero terzo vediamo come va ancora salvano ci prova un pestifero di dentro a citerba sta curva che non la vogliono angolare ci prova orpe carbonimo io penso che se qua è proprio male la terza è per Giannetti che prova ad attaccare dall'interno c'è anche la orpe Giannetti ora c'è ora e provo a venire su ecco sta andando bene orpe eh? ecco la diversa orsi va bene vediamo un po' ma è sempre in mano Sì bene bene anche ora ma questa cavalla molto 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 interessante bene allora vince Sarbana secondo Orpen e terzo Giannetti con Pestifero è andato bene anche Pestifero eh? dobbiamo dire la ricorsa si è messo terzo ha fatto un buon galoppo eh preziosa Pestifero l'abbiamo vista è rimasto intruppato eh caria in partenza è caduto ma niente di che nemmeno per il fantino bene a posto aspettiamo un'altra allora bene anche orpe eh molto bene anche orpe però questa Sarbana ha un altro passo ora è quarta bene 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 bene